Più di 12 milioni di italiani bevono Actimel. Perché? Io sono commediografo, faccio una vita molto attiva, lavoro molto. Quando mi metto a scrivere, scrivo di getto, sto lì per ore e mi dimentico gli orari. Actimel è un accordatore tra il fisico e la mente. Mi son trovato bene. Una vita intensa può indebolire le difese naturali. Actimel con alle case immunità assaggendo sulla flora intestinale aiuta a rinforzarle. Ne ho parlato con mia sorella e mio cognato. Se una cosa mi piace, ne parlo volentieri. Una nota giusta. Il tuo rinforzo ogni mattina. Il tuo rinforzo ogni mattina.